Tiziano 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 non è solamente il pittore del colore, è il pittore dell'invenzione uno dei più grandi artisti di tutti i tempi proprio per questo suo dono incredibile di capire il mondo, di capire le persone e di volerle restituire nella loro bellezza interiore nelle loro qualità più intime e anche più provocatorie Un pittore che da un punto di vista strettamente artistico è uno dei più grandi dell'arte occidentale ha illuminato una nuova via dell'arte e molti pittori l'hanno percorsa seguendo il suo esempio ce ne sono pochi che hanno avuto un'influenza altrettanto straordinaria Tiziano ha sempre creduto in un suo gusto in una sua identità e è diventato il simbolo di Venezia, dell'Italia, del Rinascimento non c'è dubbio che Tiziano ha indicato la via della vita Tiziano rappresenta il genio italiano di quel periodo speciale dell'umanità Il Cinquecento è il secolo dell'idea imperiale in un catch word per dire così Tiziano è il pittore dell'idea imperiale Il Cinquecento è l'idea